Se possiamo dimostrare giustizia nel merito, nel riconoscimento dei meriti, niente o riduzione forte delle raccomandazioni per chi di voi è costretto a subirle da qualche parte dall'alto, io no. Voglio dire comunicazione interna diversa, riunioni fatte di racconto di un percorso di un'esperienza, vedo qua pochissime donne, forse il vostro settore, ma le cose cambieranno, comunque scambio di competenze, pezzi di capacità di sintesi maschile, lo sto imparando ogni giorno da voi, ma pezzi di capacità di metterci in gioco come persone, come emozioni al femminile. Fa brodo, funziona, a noi funziona, a me funziona perché arrivano i curricula e la gente chiede di venire a lavorare con noi in tutte le aziende.